Allora, direi che possiamo cominciare, anche per non fare troppo tardi. Quando mi è stato chiesto di scegliere due temi, due argomenti, due opere, diciamo, importanti da trattare in questo corso, da un lato la scelta leonardesca di cui abbiamo parlato l'altra volta era quasi obbligata dal centenario e da tutte le manifestazioni che si susseguiranno in quest'anno leonardesco. Dall'altra ho pensato di tornare, diciamo, su un mio vecchio amore, cioè Palazzo Tè a Mantova, per cercare di fare un approfondimento su uno dei punti più famosi di Palazzo Tè, cioè la Sala dei Giganti. Per me Palazzo Tè è sempre un luogo di grande affezione personale, di ricordi molto intensi, perché devo dire che mi sono quasi formato in questo posto quando ero bambino. Una delle molle fondamentali della mia passione storico-artistica è proprio nata in questo palazzo. Sì, nella Sala dei Giganti in particolare, che colpisce molto i bambini, come sapete. Ho fatto anche l'esperimento con mio figlio piccolo qualche anno fa, è un luogo che ancora oggi, in un mondo di realtà virtuale e di effetti di ogni tipo, ancora colpisce moltissimo, francamente. Dunque, prima di parlare della Sala dei Giganti è necessario dare qualche indietro, indicazione di massima sul luogo in cui si trova questa invenzione così straordinaria. Dunque, Palazzo Tè, come sapete, è un edificio costruito a partire dalla metà degli anni venti, a Mantova. I protagonisti di questa fabbrica architettonica, che vedete dall'alto, in questo caso, dal cielo, in questa bella fotografia aerea, sono da un lato ovviamente l'architetto e il decoratore, il regista, potremmo dire meglio, di Palazzo Tè, cioè Giulio Romano, che vedete in questo caso, in questo bel ritratto, che l'amico Tiziano gli ha fatto negli anni intorno al 40, probabilmente. Questo è un dipinto che ha avuto una storia bizzarra, era uscito dall'Italia, era finito nelle collezioni del dittatore Marcos, pensate, e poi dopo la morte di Marcos, questo dipinto è stato riacquistato dall'Italia, uno dei rari casi di un'opera che ritorna nella nostra penisola, ed è stato anche intelligentemente, non solo comprato dal Ministero, ma collocato a Palazzo Tè. Quindi quando si entra a Palazzo Tè, subito dopo aver pagato il biglietto, la prima sala che uno incontra è una sala non decorata, ma in cui c'è un plastico del palazzo e c'è questo bellissimo ritratto di Giulio Romano, opera di Tiziano. Un Giulio Romano che, come vedete, si presenta come architetto, non come pittore. Tiene in mano una pianta, un edificio a pianta centrale, sembra che la stia illustrando davanti ai nostri occhi, e quindi si presenta appunto come un grande architetto, cosa che lui fu sicuramente, fu un grandissimo architetto. Però noi, sia per le mie competenze particolari, sia perché parliamo della sala dei giganti, non ci interessa in particolare questo lato dell'attività di Giulio Romano, cioè le sue straordinarie competenze architettoniche e anche le sue invenzioni così bizzarre, così originali, ma invece appunto questa capacità di grande regista degli apparati decorativi del palazzo, che lui ha svolto con davvero geniale capacità di tenere insieme le decine di persone che lavoravano alle sue dipendenze. Era un sistema che aveva imparato nella bottega di Raffaello, facendo non il regista in quel caso, ma il garzone e poi il collaboratore, e poi una sorta di fiduciario del maestro, e che ora ripropone in questo grande cantiere mantovano. L'altro protagonista di questo discorso e del palazzo è ovviamente il committente, il marchese e poi duca di Mantova, Federico Gonzaga, che qui vedete in questo strepitoso ritratto di Tiziano conservato al Prado, a Madrid, uno personaggio che può essere sicuramente annoverato fra i grandi, forse fra i più grandi mecenati dell'arte italiana in questo suo momento di apogeo, cioè i primi decenni del Cinquecento. D'altronde non dimentichiamo, per avere qualche contesto familiare, che Federico Gonzaga era figlio di Isabella d'Este e di Francesco Gonzaga, due altri straordinari committenti, ed era nipote di Alfonso I d'Este e il duca di Ferrara, altro straordinario committente. Quindi aveva nella famiglia, si potrebbe dire nel DNA, questa passione davvero viscerale per le arti, che lo spinge a spendere molti soldi, a investire molte energie e molte risorse nell'abbellimento di Mantova e nella realizzazione di alcune grandi fabbriche architettoniche e alcune grandi imprese pittoriche. Lui fu il committente ovviamente degli amori degli dèi di Correggio, fu lui a chiamare Tiziano a Mantova, a decorare il famoso camerino con i Cesari. È davvero un personaggio che ha avuto un rapporto molto forte, molto appassionato con le arti figurative e con gli artisti. È lui che nel 1524, grazie anche ai buoni uffici di Baldassar Castiglione, che in quel momento era il suo ambasciatore presso la Corte Pontificia, riesce a convincere Giulio Romano a lasciare Roma, a lasciare il centro delle arti mondiali e trasferirsi in questa piccola città padana, che era appunto piccola ma prestigiosa, che era Mantova. È una corte periferica sicuramente, è un luogo da un punto di vista politico o militare insignificante, nello scacchiere europeo di quel momento, ma un luogo culturalmente molto vivace, grazie appunto a questi grandi committenti che c'erano stati, e anche grazie ai grandi artisti che avevano reso celebre Mantova. Il nome di Mantegna, ovviamente, è un nome che a noi dice molto, ma che all'epoca diceva forse ancora di più. Mantegna era sicuramente considerato il più grande pittore del Quattrocento. E quindi in qualche modo venire a Mantova e prendere il posto di Mantegna, sostanzialmente, diventare pittore di corte come era stato Mantegna fino al 1506, quando era morto, voleva dire in qualche modo diventare erede di una illustre tradizione pittorica e artistica. Il ritratto di Federico Gonzaga è importante anche da un altro punto di vista, perché mi permette di accennare ad un tema che in realtà andrebbe sviluppato in modo molto più approfondito, ma non lo possiamo fare oggi. Dovete un po' credermi sulla fiducia, diciamo, da questo punto di vista, e cioè il fatto che Palazzo Tè può essere interpretato, credo senza eccessive forzature, come un grande, gigantesco ritratto del Principe. Parlare di un palazzo che diventa un ritratto può sembrare un'assurdità, ma se noi avessimo il tempo di passeggiare nelle sale di questo palazzo, vedere tutte le sale decorate, guardare la decorazione e studiarne i significati, noi ci renderemo conto che questo palazzo è stato costruito e decorato ad immagine del Principe. Federico Gonzaga è sempre presente ovunque, non c'è mai il suo volto, non ci sono mai le sue imprese, non c'è mai una celebrazione smaccata, ma continuamente in tutte le sali risuonano i suoi titoli, i suoi stemmi nobiliari, o continue allusioni alla sua vita, ai suoi amori, che vengono in qualche modo veicolati come una sorta di rete che si estende per tutto il palazzo. Il palazzo è una grande celebrazione del Principe, ma più che una celebrazione è veramente un ritratto, quasi un autoritratto, perché la cosa che più colpisce, e anche qui vi chiedo di credermi un po' sulla fiducia, è il fatto che in questo palazzo, ed è un caso abbastanza raro, io ne ho trovato pochissimi casi da confrontare, quasi nessuno, la verità, in quest'epoca, vengono rappresentate non solo le virtù del Principe, ma anche le fragilità del Principe, i problemi che questo Principe aveva. In realtà aveva un problema fondamentale, era innamorato di una donna che non poteva sposare, e fu obbligato a sposarsi con una persona che non gli interessava minimamente, per motivi politici. Ma ha sempre amato moltissimo questa donna che in qualche modo diventa la sua amante, la madre dei suoi figli, il suo vero amore di un'intera vita. È una cosa che l'ha fatto soffrire, e almeno così lui dice, e questa storia privata viene continuamente riproposta nelle sale di Palazzo Tè. Cosa che, devo dire, è piuttosto sorprendente, perché normalmente i grandi committenti, anche in quest'epoca, preferiscono, come sapete, celebrare le virtù e tacere i vizi, o tacere le fragilità. Federico Gonzaga no. A Palazzo Tè si permette di raccontare delle storie che in qualche modo ne svelavano il suo essere un amante non felice, per così dire. C'è un motivo da tenere presente, e questo è significativo. Oggi chi va a Palazzo Tè, penso che la maggior parte di voi, se non tutti, siate stati a Palazzo Tè, vede un palazzo urbano. Sì, è collocato nella città di Mantua. Non è nel centro, ma è praticamente nella periferia, immediata. C'è lo stadio accanto, ahimè, e quel grande parcheggio che ogni tanto viene invaso dalle orde dei tifosi. Orde, per così dire, perché il Mantua non è proprio una squadra di primo rango. Palazzo Tè, in realtà, nel Cinquecento, quando viene costruito, era una villa suburbana. Sorgeva fuori Mantua, sorgeva addirittura su un'altra isola rispetto a quella su cui sorgeva la città. Mantua era una città protetta dai laghi del Mincio che si erano impaludati e che avevano realizzato una specie di protezione naturale. C'erano dei ponti che collegavano quest'isola centrale, dove c'era la città di Mantua, alla terraferma. E su un'altra isola, staccata, un'isola dove non c'erano quasi costruzioni, Federico Gonzaga chiede a Giulio Romano di realizzare il palazzo. Quindi una villa suburbana. Tutti sapete che la sede della corte a Mantua è il palazzo Ducale, il gigantesco palazzo Ducale, al centro della città. Quello era il luogo del potere, era il luogo dove si esercitavano le azioni caratterizzanti del potere. Il palazzo Tè era una villa di piacere, una villa dove esercitare l'ozium, cioè il riposo intellettuale, lo svago, il divertimento. Non a caso, quando Carlo V nel 1530 arrivò a Mantua e fu ospitato per un mese nella città di Mantua, le grandi feste vennero allestite qui, a Palazzo Tè, non ovviamente a Palazzo Ducale. Perché dico questo? Perché ovviamente noi sappiamo che nel Cinquecento ciò che era permesso nelle ville suburbane non era permesso nei palazzi del potere. Nelle ville suburbane si potevano, quelle che a Ferrara chiamano le delizie, con questo bellissimo termine, erano possibili dei momenti anche decorativi, dei temi, dei soggetti, molto più leggeri, molto meno politicamente orientati, molto meno seri anche, che in qualche modo rendevano evidente il fatto di trovarsi in un luogo dedicato allo svago, uno svago intellettuale ma pur sempre uno svago. E questo va tenuto presente perché vi dicevo oggi la posizione di Palazzo Tè è cambiata. Se entriamo, non possiamo fare il percorso completo del palazzo, voglio fare e toccare solo due punti. La sala principale di Palazzo Tè, come sapete, la sala dei cavalli, la più grande, quella appunto dove venivano allestite i balli, le feste più importanti, è di grande interesse perché, come vedete, ricorda un fatto importante che Palazzo Tè sorge dove sorgevano le scuderie dei Gonzaga. Cioè, in questo luogo c'era una scuderia di cavalli dove venivano allevati, addestrati i celebri cavalli dei Gonzaga. Erano famosi in tutta Europa questi cavalli che venivano in qualche modo allevati a Mantua erano pregiatissimi e costosissimi al punto che, come vedete, nella sala principale del palazzo tra le varie decorazioni quella che spicca maggiormente, infatti si chiama sala dei cavalli, sono i ritratti di questi cavalli che vengono rappresentati con un effetto quasi da trompe l'oeil davanti a dei paesaggi come se fossero davanti a delle aperture delle finestre e la cosa impressionante di questi cavalli ce ne sono su tutte le pareti come vedete bianchi, pezzati, morellati e così via che questi cavalli non solo sono dei cavalli di straordinario naturalismo pittorico ma sono dei ritratti di cavalli cioè hanno il nome proprio sotto c'è scritto Morel favorito sono dei personaggi sono delle persone equine ma delle persone cosa che ci stupisce un po' ma che è in realtà molto importante perché ci fa capire anche il legame con il luogo c'erano le scuderie le scuderie non ci sono più le hanno inglobate nel palazzo ma si ricorda la presenza di questi animali così straordinariamente pregiati che vengono ritratti come dei campioni quasi che vengono in qualche modo messi in mostra sulle pareti di questa sala e tra un cavallo e l'altro ci sono statue antiche rilievi bronzei tutto dipinto tutto finto dalla pittura che vuole evocare un altro grande tema del palazzo cioè il culto per l'antichità classica l'adorazione per i marmi antichi o i bronzi antichi che a Mantua non c'erano quasi perché sapete che a Mantua non ci sono praticamente tracce di presenze autoctone antiche ma che vengono in questo caso evocate come se fosse una collezione di marmi presi a Roma come vedete l'altra sala importante del palazzo prima di arrivare alla sala dei giganti è ovviamente la camera d'angolo di sinistra quella dove c'è il ciclo di dipinti più complicato di tutto il palazzo cioè la camera di amore e psiche che qui vedete in una foto che ho scelto anche per quel bizzarro allestimento di un artista contemporaneo che ha messo uno specchio sul pavimento però devo dire abbastanza suggestivo in totale camera di amore e psiche che veniva usata come salotto sappiamo che Carlo V cenò in questa sala gli fu allestito un banchetto privato in questa in questa sala e dove appunto le storie di amore e psiche furono scelte sicuramente per volontà del committente di Federico Gonzaga proprio per alludere attraverso il filtro della mitologia attraverso il filtro dell'asino d'oro di Apuleio a questo suo amore doloroso per questa signora mantovana che era sposata peraltro rendeva ancora più doloroso il tutto che si chiamava Isabella Boschetti le storie di amore e psiche sono le storie dell'amore tra un dio e una mortale quindi tra due persone che idealmente non potrebbero sposarsi e invece in qualche modo questa storia dopo innumerevoli prove e sofferenze quasi anche i momenti in cui psiche rischia di morire alla fine c'era un lieto fine e alla fine due si sposano e generano anche un figlio una figlia anzi voluta che nasce dalla loro unione e quindi evidentemente era un ciclo scelto apposta per alludere alla speranza che il committente ancora coltivava quando fu decorata questa sala di poter un giorno riuscire a come dire rendere Isabella Boschetti una donna onesta si direbbe oggi all'epoca non so come avrebbero detto ma certamente arrivare in qualche modo ad una conclusione matrimoniale di questa storia d'amore che era iniziata quando il committente aveva 16 anni pensate dunque vediamo se riesco a usare la tecnologia una volta nella mia vita no ah no sbaglio sto sbagliando forse era questo non ci riesco questo è una conferma non importa dicevo se guardiamo la pianta del palazzo torniamo un attimo torniamo un attimo alla piantina vedete il percorso che si fa attualmente seguendo la numerazione delle stanze la numero 5 è la sala dei cavalli la numero 6 il camerone d'angolo è la sala di psiche dall'altra parte in perfetta simmetria il numero 12 l'altro grande camerone quadrato è la camera dei giganti di cui appunto volevo parlare oggi che vediamo appunto più chiaramente in questa rappresentazione dall'alto entriamo allora nella camera dei giganti di palazzo te dunque ovviamente quello che vediamo oggi non è esattamente quello che si vedeva nel 1535 quando questa camera fu inaugurata viene dipinta tra il 30 e il 35 all'incirca ed è una camera una sala in cui i visitatori che facevano in qualche modo il giro del palazzo venivano portati quasi come una sorta di punto d'arrivo era il grande effetto finale diciamo la grande sorpresa che si teneva per ultima nella visita del palazzo dicevo oggi noi vediamo una situazione in parte mutata sia per quella presente quelle balaustre oggi non ci sono più le hanno tolte in realtà ma c'erano qualche decennio fa quando risale questa fotografia ma ad esempio il pavimento che vedete qui questo bellissimo pavimento a cerchi concentrici io confesso per lungo tempo ho pensato essere il logico completamento della sala non è affatto il pavimento originario è un pavimento settecentesco molto bello perché fa questo effetto di vortice che sembra riprendere la decorazione della sala ma è un restauro settecentesco vedremo tra poco com'era il pavimento originario era completamente diverso per certi versi è ancora più geniale di quanto non appaia questo restauro settecentesco dunque il tema della sala tema unico unitario che abbraccia tutta la decorazione delle pareti e della volta e come vedremo anche del pavimento in origine era il tema della gigantomachia cioè della della lotta dello scontro fra Giove da un lato e le divinità dell'Olimpo e i giganti che tentano di sovvertire l'ordine del mondo l'ordine del cosmo i giganti accatastrano delle grandi pietre delle intere montagne per scalare l'Olimpo e per cacciare gli dèi e Giove appunto dall'alto li fulmina e fa precipitare tutte queste rocce su di loro uccidendo tutti questi giganti che avevano osato in qualche modo attentare a quello che era l'ordine del cosmo la fonte di questa di questa sala è sicuramente ogni tanto mi distraggo perché vedo le cose che si vedono sullo schermo è sicuramente le metamorfosi di Ovidio nel primo libro delle metamorfosi uno dei testi come sapete forse il testo più letto di tutta la letteratura classica nel Rinascimento nel primo libro ci sono un piccolo gruppo di versi ve li leggo perché sono molto pochi dove Ovidio accenna al tema della gigantomachia dice e perché l'etere cioè il cielo arduo non fosse più sicuro della terra dicono che i giganti aspirarono al regno del cielo e ammucchiarono i monti fino alle stelle allora il padre onnipotente cioè Giove scagliò il suo fulmine spezzò l'Olimpo e rovesciò il pelio da sopra l'ossa il pelio e l'ossa sono i nomi di due montagne della Grecia quando quei corpi orribili dei giganti giacquero sotto la loro stessa opera dicono che la terra che sarebbe la madre dei giganti madida del molto sangue dei suoi figli animò il caldo sangue e perché restasse una qualche traccia della sua stirpe lo convertì in figure umane e poi Ovidio dice ma anche questa razza disprezzò gli dèi fu avidissima di strage e violenta si capiva bene che era nata dal sangue in realtà Ovidio non descrive la gigantomachia fa un brevissimo accenno a questo tentativo appunto dei giganti di scalare l'Olimpo e alla reazione di Giove notate che Ovidio dice che Giove ha distrutto i giganti solo Giove non fa il nome di nessun'altra divinità e poi allude al fatto che dal sangue dei giganti sarebbe nata un'altra razza ugualmente negativa destinata anch'essa a essere presto distrutta dal diluvio universale che poi viene descritto nei versi successivi questo è sicuramente il testo che è stato preso come punto di partenza da Giulio Romano per ideare questa straordinaria decorazione partiamo dalla diamo uno sguardo complessivo alla sala dei giganti anche se vi confesso che la sala dei giganti è davvero una sala difficilissima da fotografare perché non si sa dove cominciare e dove finire non avendo né inizio né fine come vedrete la sala dei giganti è concepita da Giulio Romano come un unicum una sorta di di sfera completamente decorata a 360 gradi e quindi ogni fotografia ne dà un'immagine ovviamente parziale quando ci siamo dentro l'effetto è molto diverso ovviamente è davvero un effetto rotatorio è abbastanza stordente anche dunque partiamo però dalla volta come vi dicevo sulla cupola della sala dei giganti Giulio Romano ha raffigurato ovviamente l'Olimpo quindi la corte divina si vede addirittura un trono al centro vedete con quell'effetto di prospettiva spericolata dal basso verso l'alto con una cupola e con delle colonne con un trono con un'aquila che è il trono di Giove e poi sotto sulle nuvole questa sorta di palchi creati dalle nuvole si vedono decine e decine di figure che sono tutte le divinità dell'Olimpo che stanno assistendo alla lotta fra Giove e i giganti non partecipano ma assistono esattamente come è chiarito da Ovidio nel testo che abbiamo appena citato sulla sinistra vedete la figura che tiene in mano dei fulmini che rappresenta per l'appunto Giove che coadiuvato dalla moglie Giunone sta lanciando i fulmini verso la parte bassa dove appunto sulle pareti sono raffigurati i giganti e nei quattro angoli della volta si vedono quelle figure che stanno soffiando nelle tube dove ci sono appunto forse ora è meglio allargare per farlo vedere grazie vedete nei quattro angoli sono appunto i venti che stanno scatenando il finimondo sulla terra una sorta di tempesta di cataclisma che insieme ai fulmini di Giove sta facendo precipitare tutte le pietre di questi monti che i giganti avevano accatastato sulle loro testa schiacciandone i corpi e facendo appunto sgorgare il sangue dei giganti che è un po' l'effetto di questa carneficina questo è il particolare appunto del Giove fulminante che tiene in mano questa sorta di fascio di fulmini come vedete e in questo caso è interessante confrontare questo dettaglio con i disegni preparatori che si sono conservati questo è un disegno preparatorio quadrettato per questa scena quindi ormai un disegno finito pronto per essere poi messo in opera e questo è un disegno invece in collezione privata bellissimo uno studio per la figura di Giove fulminante questi disegni sono interessanti perché ci fanno capire una cosa molto evidente cioè che Giulio Romano anche in questa sala che pure è una delle più importanti del palazzo ha dipinto pochissimo non ha quasi messo mano al pennello ha svolto invece questo ruolo di regista preordinando attraverso i disegni tutte le invenzioni che vengono poi eseguite da allievi da collaboratori qui sappiamo anche il nome di colui che ha eseguito gran parte della sala si chiama Rinaldo Mantovano è un pittore così così ma un allievo di Giulio che esegue questi affreschi mettendo assolutamente in opera in modo molto fedele le invenzioni di Giulio Romano vi faccio vedere un altro dettaglio a confronto per rendervi conto del anche del salto qualitativo che si può cogliere quando abbiamo i disegni preparatori di Giulio qui è uno dei dettagli più famosi uno di quelli che piacciono di più ai bambini devo dire a me piace moltissimo questo dettaglio mi sembra di essere catapultato di colpo in un film di Walt Disney dove c'è questo questo gigante che sembra una cariatide o per meglio dire devo dire a me sembra un telamone dell'arte medievale di quelli schiacciati dal peso della colpa del peccato quelli che reggono le colonne i capitelli negli ingressi delle chiese romaniche e vedete nella resa pittorica sembra quasi che si tocchi una corda di grottesco mentre nel disegno questo elemento è reso con molta maggiore efficacia come vedete ma questo è un elemento che è caratteristico di tutto il palazzo quando andiamo a Palazzo T noi dobbiamo in qualche modo ammirare soprattutto le invenzioni e la regia più che la realizzazione poi ci sono anche alcuni punti dove Giulio Romano si è divertito a dipingere in prima persona ma sono delle eccezioni a dire la verità scendiamo sulle pareti guardiamo le quattro pareti della sala questa è la parete che si vede entrando nella sala quella di fronte in cui come vedete Giulio Romano ha rappresentato i giganti che vengono schiacciati dai massi ci sono dei corpi giganteschi che si vedono in primo piano delle mani che spuntano dalle rocce una testa con gli occhi quasi strizzati dal peso dei massi che gravano su di essa e soprattutto una cosa un effetto molto bello un effetto di caverna che si apre si vede un paesaggio sul fondo e dal fondo si vedono arrivare i fulmini di Giove che fanno questo effetto di controluce molto violento nella parte centrale c'è un dettaglio anche che ho messo nell'immagine successiva questo effetto di paesaggio improvviso che si apre è uno degli effetti dove la qualità della pittura si eleva maggiormente ma ovviamente è collegato a ciò che si vede sopra perché la figura di Giove fulminante è proprio qua sopra nella volta nella cupola in questo punto quindi c'è un effetto di collegamento fra il cielo e le pareti in questo caso la sala di ingresso scusate la parete di ingresso si entra da questa porta e si è sempre entrati anche nell'antico da questa porta è forse la parete più spettacolare e anche la più imprevista perché in questo caso Giulio Romano forzando la lettera del testo di Ovidio dove si parla di una scena che si svolge in natura sono le rocce delle montagne che franano sui giganti ha trasformato invece questa scena in questo punto in un crollo architettonico un terremoto praticamente che stiamo qui stiamo assistendo qui non sono le rocce che uccidono i giganti ma sono appunto le colonne i capitelli i fregi gli archi i conci dell'arco che stanno cadendo sulle loro teste e che danno a chi entra nella sala e che si volta per guardare la parete alle sue spalle un effetto quasi di come dire come se l'architettura stessa del palazzo in cui ci si sta trovando stesse pericolosamente inclinandosi davanti ai nostri occhi con un effetto ovviamente molto scenografico e molto molto suggestivo tra l'altro questi giganti travolti dall'architettura in alcuni casi qui si vede male perché c'è ancora la balaustra fuoriescono dalla parete dipinta e tendono quasi a invadere lo spazio della stanza questa è scusate questa manona che vi faccio vedere è la mano di questo gigante caduto che viene ad appoggiarsi sul pavimento praticamente della stanza in cui ci troviamo quindi è come se le figure dipinte sulla parete e sulla volta tendessero in qualche modo a invadere lo spazio dello spettatore per ottenere un effetto di coinvolgimento ancora più totale più integrale la terza parete che vi mostro è quella entrando a sinistra quella dove in origine c'era il caminetto in questo punto dove Giulio Romano ha raffigurato un enorme gigante probabilmente Tifeo che viene schiacciato dalla montagna che gli cade addosso ma poi si vedono dappertutto dei fuochi che spuntano dalle rocce perché in questo caso Giulio Romano ha voluto in qualche modo rappresentare anche la nascita di un vulcano che sta in qualche modo nascendo davanti ai nostri occhi il corpo di questo gigante dà origine a un vulcano e come capite quando il caminetto originario era acceso il fuoco che scoppiettava in questo caminetto sembrava fondersi magicamente con la parete perché le fiamme dipinte in qualche modo sembravano provenire dal fuoco reale collocato nell'originario caminetto oggi non c'è più il caminetto qui è stata chiusa la parete ma dovevo in qualche modo immaginare un effetto molto più coinvolgente tra l'altro un'altra cosa che dobbiamo immaginare sempre per ricostruire la stanza dove oggi vediamo le finestre con ogni probabilità in origine c'erano delle finestre che quando si chiudevano avevano delle ante decorate dipinte che permettevano la decorazione di estendersi senza nessuna cesura senza nessuna interruzione quindi con un effetto ancora più coinvolgente di quanto non appaia oggi questo è un dettaglio molto molto suggestivo in realtà avete visto che i giganti di Palazzo Tè sono tutti giganti umani non sono mostruosi non hanno i corpi a forma di serpente come raccontavano le fonti antiche sono solo degli uomini giganteschi hanno anche quasi tutti due occhi questa è un'eccezione questo è un gigante una sorta di polifemo come vedete con un occhio solo che viene schiacciato dalle rocce e c'è un dettaglio interessante vedete qui accanto c'è una strana scimmietta che gli balza accanto questo è un dettaglio iconografico che a lungo ha messo in crisi gli studiosi che non capivano perché in questa immagine così drammatica della gigantomachia ci dovessero essere queste e molte altre scimmiette che zampettano sulle pareti poi uno studioso tedesco si è reso conto che nelle metamorfosi di Ovidio che leggeva Giulio Romano che non sono le nostre ovviamente ma sono quelle stampate negli anni 20 del Cinquecento era stato fatto un curioso errore di traduzione pensate quando Ovidio dice ora ho chiuso il testo ma lo ritrovo al volo quando Ovidio dice che dal sangue dei giganti era nata dice la traduzione dice lo convertì in figure umane in latino si dice vediamo se lo trovo in faciem vertisse ominum questo in faciem ominum era stato tradotto in creature simili all'uomo sbagliando il latino e quindi queste creature simili all'uomo che cos'erano? le scimmie animali giudicati negativamente nell'iconografia medievale rinascimentale le scimmie erano giudicate animali peccaminosi lussuriosi e quindi si pensava che Ovidio avesse voluto dire che dal sangue dei giganti era nata una razza di figure simili all'uomo cioè di scimmie sbagliando completamente la traduzione lo sappiamo noi oggi ma influenzando Giulio Romano e tanti altri pittori del Cinquecento che quando hanno rappresentato la gigantomachia l'hanno popolata di scimmiette una cosa piuttosto bizzarra ma interessante anche per capire come la tradizione iconografica è giunta è giunta fino a noi e se guardiamo questo disegno preparatorio di Giulio per questa parete qui ci si rende conto che il caminetto vedete non aveva modanature architettoniche come tutti gli altri caminetti del palazzo sono bellissimi i caminetti di palazzotè sono tra le parti più belle dell'architettura sono molto fantasiosi molto originali hanno delle delle architetture delle trabeazioni dei pilastri molto molto bizzarri in certi casi qui no come vedete qui il caminetto era stato in qualche modo inglobato nella decorazione proprio per permettere a chi osservava la camera dei giganti di palazzotè di entrare in un luogo dove tutto magicamente lo portasse in un altro luogo per creare un effetto oggi diremmo banalmente della realtà virtuale ma questo era in qualche modo l'illusionismo globale avrebbe detto probabilmente Giulio Romano se avesse potuto usare le parole che usiamo noi oggi ne approfitto per fare ancora un'osservazione prima di passare all'ultima parete anzi no passiamoci forse è meglio sull'ultima parete vedete Giulio Romano aveva come dire rappresentato uno squarcio improvviso ci sono due figure che reggono la volta con questi massi giganteschi e poi sul fondo altre figure di giganti che vengono travolte dai crolli e che cadono nell'acqua di questo fiume impetuoso che sembra in qualche modo travolgerli qui davvero in questo punto del palazzo in questa parete della sala sembra quasi che Giulio Romano si sia ricordato di un altro tema iconografico il tema del giudizio universale in qualche modo scusate del diluvio universale volevo dire cioè il tema di quelle scene in cui appunto l'acqua sta travolgendo il mondo e le figure cercano di scappare arrampicandosi sulle alture e questo è un tema che vedremo tra poco poi diventerà interessante l'effetto da come dicevo prima da realtà virtuale in cui ci si trovava quando si entrava in questa stanza era accentuato ancora da un altro elemento che oggi dobbiamo ricostruire solo idealmente e che per fortuna ci viene descritto da Vasari quando nella vita di Giulio Romano Vasari descrive con una lunghissima ecfrasis la camera dei giganti ritenendola la più spettacolare del palazzo c'è una bellissima e lunga descrizione in cui Vasari che era stato a Mantua che era amico di Giulio Romano fa una sorta di traduzione letteraria di quello che si vede e lui dice però una cosa importantissima perché questo non c'è più oggi nel palazzo lui dice che il pavimento di questa sala era realizzata non con mattonelle ma con dei ciottoli di fiume questi ciottoli di fiume erano messi come dice lui per coltello che penso voglia dire in verticale un accanto all'altro per creare un effetto un po' scabro del pavimento e poi dice la cosa più interessante che questi ciottoli di fiume arrivavano alle pareti ed erano dipinti nella parte bassa delle pareti cioè Giulio Romano aveva ideato una sala in cui non solo la cupola la volta e le pareti erano decorate in modo organico da un unico grande tema ma in cui anche il pavimento faceva parte della decorazione il pavimento era un pavimento naturale non artificiale in cui i ciottoli veri che facevano il fondo del pavimento continuavano nella parte bassa delle pareti dove erano dipinti quindi l'effetto doveva essere davvero coinvolgente al massimo grado addirittura certe fonti ricordano anche che quando si entrava in questa sala per rendere ancora più efficace questo effetto di coinvolgimento totale c'erano dei paggi delle persone messe negli angoli con dei sassi in mano che li facevano cozzare l'uno contro l'altro per fare l'effetto d'eco dei sassi che stavano crollando sulla testa dei giganti ma anche sulla testa di coloro che entravano nella sala quindi un effetto anche fonico auditivo oltre che visivo davvero sembra di essere alle origini non so se avete mai provato io ho provato un paio di volte nella mia vita a mettermi il visore per fare l'effetto di 3D completo è impressionante avete provato penso che sia un'esperienza notevole per noi oggi è ovvio in qualche modo tutto ciò ma nel 500 nel 1530 una cosa del genere era una invenzione prodigiosamente nuova evidentemente non c'erano come dire precedenti che in qualche modo potessero aver fatto abituare gli osservatori a effetti di questo tipo o per meglio dire c'erano dei precedenti ma non così elaborati come questa invenzione di Giulio Romano qui sembra quasi di essere nel barocco nel 600 non nel 1530 ovviamente dunque guardate vi faccio vedere anche un esempio di questo effetto queste sono due stampe seicentesche di uno dei più grandi incisori del 600 Pietro Sante Bartoli che fa queste due stampe per rappresentare le quattro pareti della Sala dei Giganti e guardate cosa mette qui davvero mi servirebbe l'ingrandimento di questo punto qui in basso eccoci siamo quasi guardate mette una figurina che sta entrando nella sala e fa così è spaventata e cioè e questo è una cosa interessante perché Vasari nella vita di Giulio Romano dice proprio che l'effetto della Sala dei Giganti sul pubblico era un effetto di distordimento e quasi di paura quasi che appunto si avesse il terrore che quello che stiamo vedendo ci potesse coinvolgere davvero in qualche modo e che potesse travolgere anche noi questo crollo di architetture di rocce che sta distruggendo la stirpe dei giganti ovviamente tutto questo va tarato sulle abitudini visive dell'epoca che sono completamente diverse come ovvio dalle nostre dunque come abbiamo detto quindi da un lato abbiamo una fonte letteraria molto 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 nota le metamorfosi di Ovidio che che siano le metamorfosi come ho già detto ne siamo praticamente certi basta confrontare un altro disegno di Giulio Romano questo è un disegno realizzato negli anni 30 per un arazzo dedicato al tema della gigantomachia per la corte ferrarese non per la corte mantovana in cui come vedete non so se è abbastanza chiaro quello che è un po' rovinato purtroppo questo disegno ma si vede chiaramente che in questo caso Giulio Romano ha ideato una gigantomachia in cui tutti gli dei stanno combattendo Ercole si vede in primo piano vedete là al centro con la clava in mano e tutti gli dei stanno lottando contro i giganti per distruggere questi invasori diciamo mostruosi dell'Olimpo mentre come vi dicevo a Palazzo Tè c'è un assoluto protagonismo di Giove da un lato per assecondare il testo delle metamorfosi dall'altro come è ovvio per celebrare le virtù del committente Giove non può che essere il duca di Mantua nella capacità di Giove di riportare l'ordine sulla terra non si poteva che vedere riflessa la capacità del principe in questo caso di garantire in qualche modo l'ordine nel suo stato nello stato mantovano tra l'altro è interessante che se Ovidio influenza Palazzo Tè la camera dei giganti è vero anche il contrario questa che vedete è un'illustrazione di un'edizione di Ovidio delle metamorfosi pubblicata a Venezia nel 1553 ed è piuttosto evidente che l'artista che ha ideato questa illustrazione aveva in mente la camera dei giganti di Giulio Romano i corpi giganteschi schiacciati dalle rocce ricordano molti punti della decorazione le scimmiette come vedete che si intravedono spuntare fra questi corpi sono ovviamente una dimostrazione dell'impatto che quella tipo di decorazione ha avuto anche sulle arti grafiche in questo caso sui libri illustrati che illustravano appunto il testo di Ovidio ora di fronte ad un'opera così innovativa e anzi apparentemente rivoluzionaria come è l'invenzione della camera dei giganti di Palazzo Tè che parrebbe quasi non avere modelli non avere precedenti nell'arte antica medievale o moderna prima di Giulio Romano ovviamente il problema delle fonti il problema dei modelli è particolarmente interessante cioè individuare delle opere che possono in qualche modo avere suggestionato aiutato coadiuvato alla fantasia di Giulio Romano è particolarmente interessante anche se sembra una sfida un po' difficile a dire la verità intanto una prima domanda che ci si può porre visto che il tema è un tema di mitologia classica e quali opere antiche Giulio Romano poteva avere visto sul tema della gigantomachia quali fonti quali modelli classici poteva in qualche modo avere studiato sappiamo che Giulio Romano era l'allievo prediletto di Raffaello Raffaello fu l'artista archeologo per eccellenza le conoscenze di arte classica di Raffaello e di Giulio Romano erano davvero straordinarie quindi possiamo certamente immaginare che prima di dipingere la gigantomachia di Palazzo Tè Giulio Romano avesse fatto una sorta di approfondimento di studio dei modelli antichi che nel mondo greco-romano avevano rappresentato la centauromachia tutti sapete probabilmente se siete stati a Berlino che la più spettacolare la più grande la più memorabile gigantomachia della storia non è quella di Giulio Romano a dire la verità ma è quella dell'ara di Pergamo questo capolavoro davvero stordente dell'arte ellenistica che oggi si trova a Berlino ma che è stato scoperto dagli archeologi tedeschi negli anni 70-80 dell'Ottocento a Pergamo nell'attuale Turchia che era appunto questo gigantesco fregio lungo in origine quasi oltre 100 metri che rappresentava sullo zoccolo dell'ara di Pergamo la rappresentazione appunto della gigantomachia scorro qualche immagine sono notissime ma per rendersi conto della qualità veramente stravolgente di queste sculture dove l'arte greca sembra arrivare a uno dei suoi massimi punti di qualità e di originalità dove appunto si vedono tutte le divinità dell'Olimpo che stanno lottando con questi giganti che hanno queste forme e questi corpi in parte mostruosi in alcuni casi ci sono degli effetti quasi barocchi infatti non a caso gli archeologi hanno coniato il termine di barocco pergameno per queste sculture dove le figure che sembrano essere nate quasi dalla fantasia di un Bernini dell'antica Grecia escono dai fregi guardate come bellissime le spire di questo serpente che stanno debordando sugli scalini che noi dobbiamo salire per raggiungere l'altare su cui si trovava in origine appunto collocato nella parte centrale queste sculture sono per noi la gigantomachia per eccellenza ma certamente queste sculture non potevano essere note in nessun modo a Giulio Romano vengono scoperte negli anni dicevo a fine ottocento erano state riutilizzate pensate come materiali riempitivi per un muro bizantino le avevano fatte a pezzi e le avevano gettate per creare una sorta di baluardo difensivo della città di Pergamo nel Medioevo e quindi sono state ritrovate in frammenti e ricomposte come un unico e grande gigantesco immenso puzzle complicatissimo da ricostruire ma gli archeologi hanno pazienza come sapete quindi hanno ricostruito in modo straordinario questa gigantomachia ora vi dicevo Giulio Romano non poteva conoscerla purtroppo gli sarebbe piaciuta moltissimo sicuramente se l'avesse vista perché per certi versi questa esasperazione formale è in linea nelle corde dell'artista certamente conosceva benissimo un'altra opera della medesima scuola pergamena che è ovviamente il Lauconte che era in Belvedere che era forse l'opera la scultura antica più famosa del mondo in quel momento e che ovviamente Raffaello Michelangelo tutti avevano studiato con grandissima passione però il Lauconte che è certamente un esempio di rappresentazione esasperata del nudo quindi potrebbe anche averlo tenuto presente per alcune figure dei giganti che abbiamo visto nelle immagini precedenti rappresenta un tema completamente diverso un tema virgiliano e quindi in qualche modo non poteva offrire un esempio iconografico per questo tipo di tema ci sono altre opere che rappresentano il tema della gigantomachia c'è questo bellissimo sarcofago che oggi è collocato sotto alla Cleopatra Arianna del Belvedere che vi faccio vedere in una visione più chiara dove chiaramente gli artigiani gli scultori romani avevano come vedete ripreso proprio delle figure tratte dal repertorio dell'ara di Pergamo ma anche questo meraviglioso sarcofago dei musei vaticani è stato scoperto metà settecento e quindi non poteva essere una fonte di Giulio Romano e questo vale anche per quest'altro bellissima fronte di sarcofago conservata anch'essa ai vaticani che sappiamo essere venuta fuori dagli scavi archeologici a metà seicento quindi sembrerebbe quasi che Giulio Romano non avesse fonti per inventare figurativamente la gigantomachia ora questo non è del tutto vero perché andando grazie anche a una mia allieva che sta facendo una bellissima tesi di laurea su questo argomento abbiamo scoperto alcune opere che Giulio Romano potrebbe aver conosciuto ad esempio questa gemma bellissima che poi fu presa da Winckelmann come illustrazione del frontespizio della famosa storia dell'arte dell'antichità nel 1764 questa gemma che rappresenta Giove su un carro che sta travolgendo i giganti è una gemma che era già nota a fine 400 a Firenze ce ne sono due versioni e che in qualche modo quindi potrebbe essere entrata nelle fonti utilizzate da Giulio Romano però la scena è completamente diversa come vedete perché Giove su un carro su una quadriga e perché i giganti sono anguipedi cioè sono mostruosi hanno il corpo che termina in delle terminazioni come dei serpenti mentre a Palazzo Tecmo avete visto i giganti sono umani e Giove è sull'Olimpo e li sta fulminando quindi anche in questo caso un rapporto non si può presupporre mentre e questa è una scoperta che abbiamo fatto recentemente Giulio Romano potrebbe aver visto anzi sicuramente per modo di vedere queste sculture oggi conservate a Napoli ma scoperte a Roma nel 1514 che sono copie del cosiddetto piccolo donario degli Attalidi che si trovava sull'acropoli di Atene un ex voto un donario dove erano state rappresentate contemporaneamente quattro grandi storie la storia della mazzonomachia la storia della gigantomachia la storia della vittoria sui persiani e la storia della vittoria sui galati quindi due scene mitologiche e due scene storiche rappresentate sullo stesso donario queste quattro copie un gigante un amazzone un persiano e un galata furono scoperte a Roma nel 1514 e se guardiamo l'aspetto di questo gigante steso per terra morente o forse morto e se ne guardiamo una visione ancora più laterale ci rendiamo conto che in questo caso probabilmente abbiamo in qualche modo la fortuna di imbatterci in una bellissima scultura classica che Giulio Romano potrebbe effettivamente aver tenuto presente tra le fonti che gli hanno permesso di ideare quella straordinaria gigantomachia di Palazzo Tè però in realtà devo dire questo problema della ricerca delle fonti che è un problema che spesso assilla gli storici dell'arte e che annoia moltissimo gli artisti in realtà ma noi abbiamo questo tarlo di andare sempre a cercare cosa avrà visto cosa avrà suggestionato l'artista quando ha fatto questo dipinto è una domanda lecita anzi anche importante per cercare di ricostruire la genesi di un'opera d'arte anche razionalmente ecco direi che per la camera dei giganti al di là degli aspetti più banalmente iconografici la cosa veramente affascinante di quella camera è l'idea complessiva cioè l'idea di prendere un ambiente e di decorarlo con un ciclo di dipinti che annulli l'ambiente completamente e che proietti colui che entra in quell'ambiente in un luogo completamente diverso cioè un effetto di illusionismo totale integrale ecco questo è l'elemento geniale della camera dei giganti per cui vale la pena di cercare delle fonti in qualche modo ora qui il discorso diventa ancora più difficile perché in realtà nella pittura precedente a Giulio Romano c'è ben poco a prima vista di confrontabile con l'idea che lui ha messo a punto in questa sala certo proprio a Mantua come sapete come vedete individuata da questo buffo grafico sulla sull'immagine nel castello di San Giorgio all'interno proprio in questo punto in questo torrione c'è come tutti sapete la camera degli sposi di Mantegna un ciclo prestigiosissimo nel 1475 questo ambiente fu definito la camera più bella del mondo addirittura da un ambasciatore milanese e quindi era molto famosa molto nota questa decorazione mantegnesca Giulio Romano sicuramente la conosceva e l'ammirava e potrebbe in qualche modo essere stato stimolato da questo precedente mantegnesco nell'idea nella sfida di trasformare appunto una decorazione di una stanza in un effetto appunto di illusionismo molto forte capace di proiettare l'osservatore come vi dicevo in una realtà diversa effettivamente chi entra nella camera degli sposi si trova di fronte a due pareti che sono coperte da dei tendaggi ma due pareti dove i tendaggi sono aperti e dove si vede sopra alla parete del caminetto la famosa scena con la corte gonzagesca e nell'altra parete una scena ambientata all'aperto dove si vede appunto l'incontro fra il marchese di Mantova e il figlio diventato cardinale quindi in qualche modo nella camera degli sposi dei tentativi di illusionismo di questo tipo erano già presenti soprattutto come sapete chi entra nella camera degli sposi e appunto dopo aver guardato le pareti alza lo sguardo verso il soffitto trova l'effetto di maggiore illusionismo di tutti cioè il fatto che il soffitto è immaginato aperto si vede il cielo le nuvole dei buffi eroti che fanno giochi di equilibrio su questa balaustra e soprattutto la cosa per me più sorprendente delle figure che sono immaginate come camminare sul tetto e come se si fossero fermate a guardarci dall'alto qui avviene una cosa davvero notevole non è più l'osservatore che guarda l'opera d'arte è l'opera d'arte che guarda l'osservatore è piuttosto notevole questo passaggio non è così ovvio come come nelle mie povere parole che vi sto dicendo cioè chi entra in questa stanza ha davvero l'impressione di essere osservato dall'alto e quindi in qualche modo l'effetto di illusionismo è potentissimo per via di prospettiva ovviamente Mantegna ottiene tutto questo però francamente a pensarci bene questo tipo di decorazione che appunto culmina nel celeberrimo oculo centrale può essere visto sì come un precedente della Camera dei Giganti ma siamo su un altro piano tutto sommato qui come vedete è un illusionismo che funziona per pareti per punti c'è una grande architettura dipinta come se fosse reale che in qualche modo regge tutta la stanza che si apre come degli spot come degli schermi che permette appunto di guardare la vita di corte in diversi momenti c'è l'interno c'è l'esterno e poi c'è il cielo in alto ma manca proprio quell'elemento che era fondamentale nella Camera dei Giganti cioè quel coordinamento in un unico istante noi stiamo osservando una cosa che avviene in un istante solo e che ci avvolge completamente ecco questa cosa nella Camera degli Sposi non c'è ovviamente ovviamente degli stimoli importanti Giulio Romano potrebbe averli tratti dal suo maestro da Raffaello ad esempio nella Camera di Eliodoro l'affresco forse più geniale da questo punto di vista compositivo e c'è la liberazione di San Pietro dal carcere è un affresco io credo su cui Giulio Romano ha a lungo meditato perché deve avere capito che in questo dipinto Raffaello aveva in qualche modo sperimentato qualcosa che non si era mai visto fino ad ora cioè un dipinto un affresco che si svolge in vari momenti narrativi ma che in qualche modo necessita dello spettatore per funzionare sapete com'è la storia al centro c'è l'angelo che libera San Pietro dalle catene a destra l'angelo che porta fuori San Pietro dal carcere di notte quando la notte è ancora oscura e poi il giorno dopo all'alba i soldati che arrivano per dare il cambio alle guardie e che rimangono sgomenti perché la cella è vuota ma la cella vuota dobbiamo immaginarcela noi che guardiamo l'affresco quindi come dire questo dipinto è un dipinto che parte al centro va a destra entra nella sala dove siamo noi ci coinvolge e si chiude sulla sinistra è davvero geniale dal punto di vista registico è un esperimento molto ardito che Raffaello aveva provato in questo dipinto anche narrativo oltre che ovviamente celeberrimo per i motivi che tutti sapete l'idea di fondere tutte queste luci artificiali naturali la luna l'alba le fiaccole la luce dell'angelo i riflessi sulle armature con questo effetto luministico straordinario ma dal punto di vista registico compositivo pure c'è un elemento di grande fascino che deve avere colpito Giulio Romano perché siamo di fronte ad una parente che come vi dicevo ingloba necessariamente lo spettatore per funzionare narrativamente come credo anche che Giulio Romano abbia guardato con grande fascino uno degli arazzi della Cappella Sistina disegnati da Raffaello forse il meno famoso perché piccolino e con questa strana forma usando un termine giapponese si direbbe a cacemono cioè a pilastro era così piccolo perché doveva cadere in un punto particolare della Cappella Sistina quindi doveva decorare una porzione molto ridotta di parete in questo arazzo bellissimo Raffaello aveva rappresentato la liberazione di San Paolo dal carcere che viene liberato da un terremoto come vedete un terremoto che squarcia la terra fa cadere i muri della prigione e San Paolo quindi può miracolosamente uscire illeso dalla prigione in cui era stato gettato se guardate la figura del gigante la personificazione del terremoto troviamo una sorta di padre nobile dei giganti di Palazzo Tè c'è lo stesso elemento quasi di forzatura grottesca nella figura e poi c'è un elemento che mi ha sempre colpito moltissimo di illusionismo imprevisto questo gigante non sta rompendo solo la terra ma sta rompendo anche la cornice dell'Arazzo la cornice dell'Arazzo è un elemento fittizio è nel nostro spazio non nello spazio del racconto quindi questo gigante è talmente potente talmente incontrollabile una sorta di Hulk della storia sacra che sta squarciando la cornice quindi invade il nostro spazio è un altro elemento che credo abbia potentemente colpito la fantasia di Giulio Romano ora però anche questo non basta per capire la genialità della sala dei giganti e appunto quell'idea di cui abbiamo parlato prima un'idea che poi avrà una lunga eco nel Cinquecento sono tanti poi i cicli di pittura che hanno ripreso questa bellissima invenzione di Giulio vi mostro una cosa che ho trovato per caso pochi giorni fa guardate questo è il castello di Torre Chiara vicino a Parma dove c'è un ciclo di dipinti di Cesare Baglione siamo intorno al 1580 e guardate questa sala la sala della caccia è una sala in cui le pareti il soffitto le volte rappresentano un'unica storia un'unica scena una scena di cacciagione in natura questo ovviamente è impensabile senza il precedente di Giulio Romano come capite anche se qui l'effetto è meno efficace perché ci sono ancora i costoloni della volta che reggono la struttura e quindi rendono meno efficace l'effetto di illusionismo globale che Giulio Romano aveva provato oppure un'altra sala di questo castello io non ci sono mai stato confesso ma ci andrò sicuramente al più presto perché mi sembrano bellissime questa è la sala del pergolato vedete è una sala immaginata come un pergolato aperto verso il cielo con le pareti che stanno crollando davanti ai nostri occhi si aprono cascano come delle rovine con dei buchi e attraverso i buchi si vede il paesaggio le nuvole il cielo che si spandono tutto intorno ecco questo tipo di invenzioni sono tutte in qualche modo derivate in modo diretto o in modo indiretto dalle grandi invenzioni che Giulio aveva in qualche modo pubblicato a Mantua tra gli anni 20 e gli anni 30 secondo me qui è un elemento credo forse il primo che vi presento oggi di reale novità per trovare un vero precedente della Camera dei Giganti bisogna andare qui bisogna andare a Castello Sforzesco di Milano nel Castello Sforzesco di Milano tra i tanti tesori che ci sono c'è in questo torrione nel torrione settentrionale quella che si chiama che a lungo è stata chiamata la Camera delle Asse di Leonardo da Vinci quindi torniamo su Leonardo avete visto che alla fine dopo questo lungo circolo siamo tornati a parlare di Leonardo ma in questo caso come precedente mi sembra interessante la Sala delle Asse che io da piccolo e per tanti anni ho visto in questo stato tutta ricoperta lungo le pareti da queste assi di legno che sembrano quasi trasformarle in una sorta di baita tirolese a dire il vero con un restauro piuttosto discutibile solo in questo punto queste assi erano state lasciate tagliate per permettere di vedere questo stupendo monocromo che era riemerso durante i restauri degli anni 50 un monocromo meraviglioso chiaramente opera di Leonardo dove si vedono delle rocce e delle radici ma quando la Sala delle Asse era in questo stato non si riusciva a capire io mi ricordo tante volte sono andato a Milano e rimanevo ammirato di fronte a questo dettaglio di chiaroscuro naturalistico ma non capivo cosa centrasse con tutto il resto questa volta arborea dipinta con le targhe con gli stemmi improvvisamente si fermava e qui c'erano dei monocromi che sembravano in qualche modo in nessun rapporto con il resto in realtà il recentissimo restauro che si è chiuso pochi giorni fa e che verrà presentato a maggio in una mostra che sarà assolutamente da vedere al Castello Sforzesco in onore di Leonardo ha rivelato delle cose importantissime e cioè che in origine la decorazione era stata pensata da Leonardo in modo completamente unitario cioè la volta arborea le lunette con i rami e con le foglie i nastri intrecciati i tronchi che seguivano che scandivano le pareti continuavano lungo le pareti e andavano a incardinarsi in queste radici che vediamo spuntare dai massi nella parte bassa della parete cioè scusate vi mostro meglio le immagini questa è la volta come la vediamo oggi complicatissima in cui i rami degli alberi hanno creato una sorta di soffitto vegetale per darvi un'idea della complicatezza potete guardare questo incredibile grafico che è stato in qualche modo ripreso dalle fotografie della volta c'erano c'erano poi appunto gli alberi che scendevano lungo le pareti e dai restauri sono emersi che questi tronchi continuavano su tutte e quattro le pareti e andavano a creare una decorazione assolutamente unitaria addirittura in certi punti come in questo sono venuti fuori dei paesaggini nuovi leonardeschi è piuttosto sorprendente tutto questo perché noi oggi possiamo capire che in origine la sala delle asse anche se poi rimase incompiuta se Leonardo non ebbe mai modo di dipingere la parte inferiore perché nel 1499 dovete scappare da Milano come sapete e quindi siamo di fronte di nuovo ad un'opera come dire purtroppo non arrivata a compimento oggi però riusciamo a ricostruire l'idea originaria di Leonardo cioè Leonardo aveva immaginato questa sala che è una sala grande di 15 metri per 15 metri molto molto monumentale come una sorta di luogo naturale cioè chi entrava in questa sala doveva avere l'impressione di uscire all'aperto di trovarsi in un boschetto sotto un pergolato tra una serie di tronchi con dei grandi paesaggi che si vedevano aperti tra un tronco e l'altro una decorazione devo dire piuttosto scioccante per due motivi da un lato perché in questo caso Leonardo sembra che per la prima volta avesse concepito quest'idea che noi oggi attribuiamo a Giulio Romano cioè l'idea di decorare un ambiente in un modo assolutamente unitario con un effetto di illusionismo globale per cui chi entrava si girava aveva questa impressione virtuale di essere all'aperto per l'appunto e dall'altro cosa forse ancora più sorprendente di dedicare a questo tema non un tema mitologico un tema narrativo ma un tema di puro paesaggio la natura non c'è una figura umana in questa sala certo c'è il duca di Milano c'è il suo stemma ci sono le targhe epigrafiche con la celebrazione delle virtù di Ludovico il moro c'è addirittura un altro omaggio ancora più raffinato Ludovico il moro queste piante sono piante di gelsi venivano chiamati moroni nel 400 perché dai gelsi nascono le more e quindi in qualche modo questi alberi alludevano con questo gioco di parole al nome di Ludovico il moro ma tutto questo era trasfigurato in un ciclo in cui era la natura a dominare incontrastata davvero è un elemento molto notevole che emerge da questo importantissimo restauro penso sia la scoperta più importante di questo anno leonardesco i restauri di questa sala e qui credo che siamo davvero diciamo alle origini di questa invenzione che poi Giulio Romano riprenderà nella sala dei giganti cioè di concepire una sala davvero in un modo illusionistico dove tutto fosse coordinato su una sola idea in questo caso l'idea della natura in quel caso l'idea della mitologia classica del tema della gigantomachia ovviamente non sappiamo se Giulio Romano avesse visto è probabile era a Mantova non era molto lontano da Milano e poteva essere anche andato di persona a vedere la decorazione di cui stiamo parlando o potevano essere giunte notizie disegni informazioni su quello che Leonardo aveva fatto appunto negli anni milanesi ma io credo che un rapporto tra questi due cicli sia in qualche modo indiscutibilmente sia possibile almeno ipotizzarlo in modo piuttosto convincente tutto sommato la cosa diventa ancora più interessante se riflettiamo su un altro punto cioè il fatto che questa è una cosa già notata dagli studiosi di Leonardo già negli anni 30 del 900 era stato messo in evidenza come se vogliamo trovare dei precedenti per questa sorta di cataclisma universale che Giulio Romano ha immaginato nella sala queste nuvole questi venti questi fulmini l'acqua le pietre che stanno travolgendo la razza dei giganti che travolgono idealmente anche noi che stiamo dentro la sala non ci sono molti precedenti se non i celebri disegni dei diluvi di Leonardo disegni tardissimi si datano intorno a 1515 quando Leonardo era proprio negli ultimi anni della sua vita e quando ostinatamente con un'ostinazione piuttosto impressionante disegna decine di volte questo tema del diluvio universale o del cataclisma che sta distruggendo l'umanità questo è un meraviglioso disegno di Windsor dove si vede appunto una sorta di tempesta che sta travolgendo il mondo si vedono degli alberi forse c'è un dettaglio guardate degli alberi sradicati e delle figure umane che vengono travolte dal vento che sta spazzando via la terra effettivamente disegni come questi vengono eseguiti da Leonardo abbiamo detto intorno a 1515 e dove era Leonardo nel 1515? era a Roma era a Roma era ospitato in Belvedere quindi si trovava a pochi metri di distanza dalle stanze di Raffaello in cui il giovane Giulio Romano dipingeva quindi in questo caso in qualche modo il collegamento è un collegamento diretto non più solo ipotetico anche questi diluvi di Leonardo che sono tra le invenzioni più impressionanti in assoluto della sua tarda attività trovano io credo una sorta di precedente ovidiano io ho scoperto devo dire con una certa sorpresa che nelle edizioni di Ovidio il diluvio universale nel 1513 era stato illustrato in questo modo come un diluvio di acqua di pioggia di vento di nuvole senza nessuna figura umana e se osserviamo i famosi disegni di Windsor con i diluvi di Leonardo sembrerebbe in qualche modo di trovare un nesso con queste illustrazioni ovidiane ma la cosa che mi piace in qualche modo sottolineare in questo momento è come questi disegni apparentemente così profetici così fuori tempo fanno venire in mente cose di pittura romantica dell'ottocento a dire la verità per trovare uno scatenamento di elementi così impressionanti io ai miei studenti ho fatto vedere ho messo accanto a questi disegni un quadro di Turner addirittura qui non ho osato oggi rimetterlo perché un po' mi vergognavo ma in realtà è un confronto interessante per far capire quanto sono anzitempo queste opere ma credo che questi disegni bellissimi siano stati conosciuti da Giulio Romano che in qualche modo li ha studiati e li ha utilizzati per rappresentare questa fine del mondo mitologica che sta rappresentando nella camera dei giganti sono davvero disegni di una potenza fantastica straordinaria uno dei vertici secondo me dell'arte leonardesca che come vedete guardate questi confronti sembrano in qualche modo riflettersi mitologicamente interpretati nella sala dei giganti chiudo con una immagine che potrebbe sembrare una provocazione ma che spero non lo sia del tutto o per meglio dire per darvi un elemento di riflessione che è questa qualcuno di voi riconosce questa immagine? qualche amante di musica contemporanea c'è immagine questa è una cosa che mi colpì moltissimo quando la vidi nel 1995 è un video musicale di Lorenzo Cherubini detto Giovannotti l'ombelico del mondo per me è una delle canzoni più belle che l'abbiamo mai fatto perché è molto originale molto poco commerciale se vogliamo ma la cosa straordinaria è che per fare il video vi consiglio di andarlo a cercare su YouTube perché si trova facilmente riguardare questi quattro minuti Lorenzo Cherubini ha avuto l'idea credo lui perché è un uomo devo dire non così stupido come potrebbe apparire a prima vista anzi tutt'altro quando era giovanissimo faceva di tutto per sembrare scemo come sapete poi in realtà devo dire che è venuto fuori un personaggio invece interessante per tanti versi insomma nel 1995 lui ha fatto girare il video nella camera di giganti vedete ha fatto mettere al centro della camera di giganti una sorta di palcoscenico ovviamente rotondo e su questo palcoscenico lui stesso si è esibito suonando il tamburo in un modo indiavolato con una serie di ballerini che ballano varie danze di ogni tipo su questo tamburo e con presenze a un certo punto si vede un cammello una tigre un lama addirittura un elefante che passeggia dentro a Palazzo T ma un video in cui il rapporto fra musica immagini e gli affreschi di Giulio Romano è veramente creativo la domanda che volevo lasciarvi come domanda per salutarci oppure possiamo parlare tra poco è lecito fare questo? io quando ho visto il video ero un po' dibattuto fra due reazioni opposte da un lato ero scandalizzato che il soprintendente di Mantua avesse permesso a una troupe televisiva di decine di persone con i macchinari con le telecamere con le luci di entrare in questa sala mettendo chiaramente a repentaglio l'integrità fisica degli affreschi o che avesse permesso a un elefante di entrare a Palazzo T logicamente mi sembrava veramente incredibile dall'altro però questo come dire questo elemento di scandalo era controbilanciato da un elemento di ammirazione per il risultato finale perché vi assicuro che il risultato finale di questo video è davvero notevole uno dei più bei video musicali che ne ho visti tanti perché mi diverte questo tipo di invenzioni ma bello come questo ne ho visti veramente pochi o per meglio dire capaci di far interagire un'opera d'arte con la musica non lo so è una domanda a cui tutt'oggi faccio fatica a dare una risposta sono sempre dibattuto fra i due i due corni del problema come si suol dire forse l'unica cosa che si può dire razionalmente è questa che tutto sommato dobbiamo essere contenti che opere d'arte del passato siano ancora oggi in grado di scatenare la creatività contemporanea e forse ci sarà qualche ragazzo io immagino qualche giovane di quelli che noi tentiamo inutilmente spesso di mandare nei musei o a vedere le mostre e così via che dopo aver visto questo video sarà andato a Palazzo Tè per andare a vedere davvero la Camera dei Giganti grazie ovviamente se avete domande o qualsiasi tipo di curiosità sono qui o se volete anche voi rispondere alla domanda con cui ho finito visto che io non so rispondere e correggio come ci potrebbe stare ci potrebbe stare assolutamente niente no no ovviamente tante cose non le ho non le ho dette ma correggio sicuramente è un precedente per Giulio anche perché le cupole di correggio si datano dalla metà degli anni venti in poi quel palcoscenico di nuvole su cui sono appollaiate le divinità è impensabile senza la cupola parmense quella di San Giovanni soprattutto la prima delle due però le cupole di correggio non creano un effetto di illusionismo totale come la Camera degli dei giganti cioè in qualche modo è vero sfondano la cupola aprono la visione all'infinito ma sono come dire all'interno di una struttura architettonica che è la chiesa e se andiamo a vedere la Camera della Badessa nel convento di San Paolo a Parma vediamo un ciclo che è certamente influenzato da Mantegna ma anche lì in qualche modo l'illusionismo è molto parziale è la volta illusionistica ma poi si appoggia su delle pareti e su delle lunette in qualche modo che creano un effetto completamente diverso no qui c'è proprio invece un'invenzione di sfondamento dello spazio a 360 gradi che io credo non si fosse mai vista prima di Giulio Romano se non nella sala delle asse di Leonardo che però era una sala incompiuta non finita quindi dove questo effetto era in qualche modo molto difficile da percepire perché non era stata portata a compimento quindi era decorata con la pittura solo nella parte alta probabilmente esiste qualche altro precedente che non conosco infatti ma sarebbe interessante in qualche modo approfondire questo elemento la Villa di Livia la Villa di Livia l'avevo messa nel corso ovviamente che ho fatto quest'anno ai miei studenti per dire che la Villa di Livia è la cosa prima che ci viene in mente soprattutto per la Camera delle Asse perché è una decorazione di pura natura anche se quella è un giardino non è un bosco ma il problema è che la Villa di Livia viene scoperta nel 1867 e prima della Villa di Livia non c'era niente nel rinascimento di conosciuto di analogo non esistevano conoscenze per quello che sappiamo di cicli pittorici che si estendessero sulle quattro pareti di una stanza e che coinvolgessero anche la volta quindi in qualche modo la Villa di Livia è un precedente ideale ma non un precedente reale per cose di questo tipo no io credo che Leonardo avesse letto nelle fonti in Plinio in Vitruvio in Filostrato descrizioni di decorazioni paesaggistiche antiche che gli fanno venire in mente questa cosa strepitosa che è la Sala delle Asse credo che sia così da immaginare il passaggio perché di noto non c'era niente sicuramente di pittura antica poi Leonardo non era mai andato a Roma ancora quando fa la decorazione della sala è in 98 1498 documentata quindi non può essere vista come una sala archeologica anche se a prima vista la prima cosa che viene in mente è la Villa di Livio la sala di Livio il giardino di Livio a Palazzo Massimo certo bene allora vi ringrazio di nuovo per rivederci